Professore Pellegrino, prima edizione di Eurostract, quali temi sono stati affrontati durante il convegno? Dunque, i temi principali sono quelli legati ai ponti, in particolare ai ponti esistenti, quindi la valutazione dei ponti esistenti, il monitoraggio, le verifiche, le ispezioni, tutti quei temi che per ora sono di grandissima attualità. C'è una grande attenzione anche al tema dei ponti a cavi postesi, che è un tema che, come è noto, è anche ben evidenziato nelle linee guida, quelle del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e su cui stiamo lavorando, sia come Università di Padova, ma anche in altri contesti, per cercare di dare dei protocolli operativi, visto che le linee guida, giustamente, hanno evidenziato il problema, però adesso è necessario cercare di dare delle indicazioni pratiche per gli operatori del settore che permettano di ottenere degli elementi che abbiano una certa rilevanza nella stima della precompressione residua, per esempio. Questo è uno dei tanti temi. Ecco, perché proprio il tema dei ponti a cavi postesi, o anche delle stelle Gerber, è così caldo in questo momento? Perché si è visto, sono due tematiche un po' diverse, ma di una certa criticità entrambe, come appunto evidenziato nelle linee guida. In particolare, noi in Italia abbiamo un patrimonio di migliaia e migliaia di ponti a cavi postesi, come anche i ponti che presentano delle selle Gerber, perché in un certo periodo storico la costruzione dei ponti prevedeva questi schemi, che sono ripetuti, soprattutto in ambito autostradale, ma non solo. Quindi, diciamo, sono critici perché nel caso dei cavi postesi, evidentemente, un'eventuale riduzione della precompressione trasmessa dai cavi potrebbe comportare conseguenze molto rilevanti nell'ambito, diciamo, del comportamento globale dell'impalcato e alle estreme conseguenze anche il collasso, come si è già verificato. Aspetti similari, come conseguenze, ma non come meccanismi strutturali, riguardano anche le selle Gerber, perché sono elementi, diciamo, che vanno incontro alla rottura fragile, quindi senza sostanzialmente preavviso, e quindi necessitano di una particolare attenzione, di una particolare metodologia di controllo e ispezione specifica per questo tipo di elementi critici. Invece, tornando a questo appuntamento, a questa prima conferenza, quali sono i vostri obiettivi? Abbiamo cercato di riunire tutti gli operatori del settore più attivi in questo tema, sul tema dei ponti esistenti, sia in ambito nazionale, ma soprattutto in ambito internazionale, in modo tale, insomma, che si possa, diciamo, dopo tanto tempo, riuscire a presentare gli ultimissimi avanzamenti della conoscenza sul tema della valutazione, del monitoraggio e del controllo dei ponti esistenti, in maniera tale, insomma, che da poter anche cercare di favorire le opportunità di collaborazione a livello internazionale fra gli operatori, non solo in accademia, ma anche in ambito, diciamo, delle ditte che si occupano di questi aspetti. Immagino anche per fare il punto su quelle che sono le tecniche più innovative che oggi propone il mercato per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione. Certo, diciamo, nell'ambito di questa macro tematica, appunto, ci sono tantissime tecniche innovative che riguardano, sì, appunto, l'identificazione del danno, come si diceva prima, il monitoraggio, e anche le tecniche innovative per il rinforzo e il ripristino dei viadotti. In questa cosa qui, l'interscambio fra accademia e industria è molto importante in maniera tale che, diciamo, si prosegua, si vada avanti di pari passo e si riescano ad avere un mutuo beneficio in questa collaborazione. Grazie.